Sono stati giorni fantastici dove abbiamo imparato la condivisione, lo stare insieme e mi porto a casa l'importanza di fare sempre crescita personale perché di anno in anno siamo delle persone diverse. Nel cuore porto tanta gioia, tanta consapevolezza e soprattutto porto un grande amore, mi è arrivata una grande apertura e sento questo amore pulsare. Consiglierei questa esperienza perché soprattutto io penso che è sempre importante la crescita personale, è sempre importante il miglioramento e perché a me ha cambiato la vita, quindi mi ha aiutato a risolvere una serie di situazioni che se non avessi risolto sicuramente non sarei la persona che sono ora. Quindi io prima, come mi sentivo prima, mi sentivo bloccata, mi sentivo inadeguata, sentivo che avevo bisogno di fare un percorso, adesso mi sento leggera, libera e mi sento desiderosa di andare verso la mia vita straordinaria. Quello che mi sembra possibile, che prima mi sembrava impossibile, è proprio che non ci sono cose impossibili. L'impossibile è quello che tu pensi, se tu pensi che è impossibile sicuramente non farai niente per averlo, ma se hai fiducia e credi che è possibile, assolutamente sarai aiutata e soprattutto motivata per andare a prendere quello che vuoi, quello che ti aspetta, quello che meriti. Una volta a casa, è proprio un impegno che mi sono presa, ogni giorno farò meditazione, continuerò a rileggere, innanzitutto riordinerò subito gli appunti che ho sul quaderno e me li rileggerò. Continuerò a fare sia la meditazione che tenermi informata per mantenere alta la mia informazione, per mantenere alta la mia motivazione e il mio benessere. Voglio ringraziare Patti perché a parte il fatto che ci ha fatto fare di tutto, di più, sono stati veramente 4 giorni meravigliosi dove abbiamo veramente sfidato le nostre paure, dove abbiamo guardato in faccia i nostri limiti e tutti quanti nel gruppo li abbiamo superati e questo è stato grandioso. Se non ci fosse stata lei ad aiutarci sicuramente non avremmo neanche iniziato, è stato bello perché ci ha aiutato a superare e ci ha aiutato nei momenti di difficoltà con le giuste parole.